Ben trovati in diretta con questo spazio ormai tradizionale del sabato Gorizia 7, oggi parliamo di musica e di musica accolta in particolare con il professor Lorenzo Qualli, presidente dell'associazione Rodolfo Lipitzer che dà vita a una stagione concertistica ma anche all'importante premio per quanto riguarda i violinisti. Buongiorno e ben trovati innanzitutto. Buongiorno a lei, buongiorno ai vostri teleascoltatori. Allora, partiamo da questi concerti della sera, la stagione concertistica che è in fase conclusiva in questo momento, che è ancora un appuntamento importante il 21 giugno se non sbaglio. Sì, il 21 giugno faremo la dodicesima festa europea della musica con la partecipazione di circa 12-13 concertisti che si alternano in brani non lunghi, massimo 10-15 minuti, per un'ora e mezza abbondante, quasi due e avviene dal 19... no, veramente è nata nel 91-92 in Francia, eccetera. In Italia è partita nel 2006 per volontà del Ministero dei Beni Culturali e si sviluppa principalmente il giorno 21 giugno che è il solstizio d'estate e quindi in tutta Italia ci sono tanti concerti come in tutta Europa e negli stati membri dell'Europa. Bene, vedo insomma un programma abbastanza importante e variegato anche a livello di aria che verranno insomma di... Sì, sono opere dal piano solo, piano quattro mani, piano violino, piano flauto, tri con clarinetto, canto, soprano per esempio e pianforte, un quartetto appunto anche triestino che partecipa del maestro Piero Zanon. Quindi c'è una varietà di proposte, il quartetto fa anche la parte del quintetto con pianoforte di Cesar Frank quindi opere colte e anche c'è una presenza di un pianista jazz quindi è molto variegato il programma, divertente, ha ingresso libero, si svolge in castello ai musei provinciali e con inizio alle ore 20 e 30, quindi fino alle 10 e mezza circa quasi abbiamo due ore di spettacolo gratuito con ingresso libero. Tra l'altro un tipo di evento che mette in luce proprio i musicisti nostrani, no? Triestini, goriziani, udinesi che insomma si sono fatti strada dal conservatorio fino insomma a questi livelli. Sì, molti sono anche i nostri stati allievi, sono ex allievi, professori, insegnanti, docenti di conservatorio di altre scuole, la cantante per dirle anche architetto oltre che diplomata in musica nostra Noi nella nostra scuola abbiamo un diplomato di canto lirico, due, di arpa, diciamo a pedali, di atonica, uno e altri sette diplomi di pianoforte. Dopo la riforma Gelmini non è più possibile che le scuole private portino al diploma e questo è un po' un problema che ci ha limitato un po' anche le presenze. Questo insomma sarebbe forse qualcosa da modificare dal suo problema. È molto difficile che venga modificato, se si è fatto una riforma, quella adesso dura probabilmente fino a un ministro che si sogna di cambiare qualcosa di nuovo, come avviene spesso. Allora, questo è diciamo la fine di una stagione che ha visto tanti eventi, ripercorriamo un po' quello che è stato insomma la stagione di concerti. La stagione è partita in ottobre, si è sviluppata con una media di due concerti all'anno, variegata anche questa con proposte tutte diverse, non c'è un doppione per dire, vanno dal recita, dalle musiche cameristiche da particolari gruppi anche come l'Orchestra Zigana di Budapest che viene ogni circa tre anni che porta un grande pubblico con musiche di origine appunto anche popolare. Poi c'è il concerto per esempio di fine anno che lo facciamo tutti gli anni il 30 dicembre con un'orchestra sinfonica. Nella prima parte c'è un laureato del concorso internazionale di violino premio Rodolfo Lipitzer che vince per esempio in settembre e viene invitato al concerto di fine anno. Nella seconda parte c'è una parte invece viennese con le musiche viennesi, waltze, polche, mazurche e anche inframmezzate con brani cantati dove parteciperà un soprano e un bass baritono quindi molto vario anche forse più del concerto di Capodanno da Vienna e molto sentito forse il concerto più ascoltato dell'anno però c'è poi spazio anche per il secondo premio del concorso di violino Lipitzer che viene con piano e violino. Ci sono spazi per recital, per esempio abbiamo avuto un chitarrista vincitore del concorso internazionale mercatale di chitarra. Abbiamo avuto spazio per una pianista che ha vinto il primo premio al concorso pianistico Giulio Peccar di Gorizia che è arrivata appunto dalla Germania per fare questo recital e ha una carriera meravigliosa ormai, l'ha vinto già negli anni 12 mi pare. Quindi questi giovani che vanno quindi aiutati soprattutto provengono da concorsi internazionali molto affermati e che quindi per vincerli non è semplice, comporta un grande studio, una grande preparazione artistica. Certo. Poi parlando invece più specificatamente di violino c'è il 35esimo concorso internazionale a Rodolfo Lipitzer. Ci spiega insomma anche come è nato e come sta andando a fare? Ma vede, l'associazione è nata ufficialmente il 20 settembre del 77 e si è costituita legalmente con finalità morali, culturali e principalmente per promuovere quello che stiamo promuovendo. Intanto la cultura ovviamente musicale e inedita che ci ha lasciato il maestro Rodolfo Lipitzer che ancora oggi non abbiamo completato nelle edizioni musicali e poi promuovere appunto i giovani che meritano, che emergono da concorsi e così via con una stagione concertistica. Siamo partiti negli anni 82 con il concorso primo dove il presidente è stato chiamato Giulio Viozzi ad esempio, è una grande giuria internazionale veramente prestigiosa di molti stati europei, extraeuropei. Ci ha messo immediatamente in luce internazionale il fatto di avere appunto scelto una giuria molto famosa, con elementi molto validi, molto conosciuti internazionalmente che frequentano i più grandi conservatori, master class internazionali e così via. E da lì siamo partiti via con Mario Zaffret anche un triestino dall'Accademia di Santa Cecilia è venuto a presiedere il secondo concorso, il terzo concorso con Giorgio Ferrari, presidente anche del conservatorio di Torino e via via ci siamo allargati a tutto il territorio nazionale con i presidenti. E un membro, o al massimo due, ma di solito un violinista italiano, gli altri cinque su sette sono rappresentanti di tutti gli stati. Il concorso ha avuto finora 86 nazioni partecipanti di tutti e cinque i continenti sin dal terzo concorso 1984 quando il presidente Pertini ci ha dato anche il patrocinio, l'alto patrocinio della Presidenza della Repubblica che si è ripetuto tutti gli anni. Negli ultimi anni abbiamo avuto anche il patrocinio dell'UNESCO, attualmente presieduto da Irina Bocciova, che è una direttrice generale dell'UNESCO bulgara. Con motivazioni molto belle perché proprio per le nostre finalità di sostegno dei giovani, della ricerca di giovani talenti, da sostenere e lanciare nel repertorio concertistico mondiale è stato molto ben accolto perché fa parte proprio degli obiettivi culturali dell'UNESCO. E poi abbiamo il sostegno ovviamente da sempre della regione Friuli-Venezia Giulia, dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo dall'82, poi dalla Presidenza del Consiglio del Ministro con la soppressione referendaria del Ministero, poi è seguita il Ministro dei Beni Culturali e attualmente anche del Turismo che ci ha dato questi sostegni per continuare questo concorso. Negli ultimi anni il Ministero ha un po' tirato il remi in barca, come si suol dire, alla Triestina che mette il mare e quindi non dà più sostegno a 25 concorsi nazionali dal 34esimo concorso Lipitzer. Proprio nell'anno in cui ha vinto un italiano per la prima volta il primo premio, quindi da questo si capisce la difficoltà di questa manifestazione competitiva perché purtroppo anche all'inizio vincevano i sudcoreani, i cinesi dopo, prima i giapponesi, i taiwan eccetera eccetera. Poi l'Europa ha avuto i suoi vincitori, ha avuto l'Austria, la Romania, l'Olanda, la Francia, la Germania. Abbiamo avuto tante nazioni che hanno vinto, anche l'America è arrivata a un secondo posto con l'Indole Taylor già nell'87, la Svizzera un primo premio eccetera eccetera. L'Italia ha aspettato il 34esimo concorso, proprio nell'anno in cui il ministro Franceschini ha zerato 25 concorsi italiani di cui 5 della nostra regione. La sensibilità del Assessore Torrenti ha fatto sì che in quell'anno ci ha dato ai 5 concorsi regionali un contributo straordinario per non scomparire, per non chiudere, che si è ripetuto poi dopo 3 anni quest'anno anche con un contributo leggermente più sostanzioso, ma non sopperisse alla carenza ministeriale. Poi c'è la Camera di Commercio, il Comune di Gorizia, c'era la provincia di Gorizia finché esistevano le province e c'è il sostegno anche dei privati. Abbiamo parecchi sponsor privati e anche dai più piccoli privati che danno dei premi speciali. Per esempio ci sono una dozzina di premi speciali che vanno a incentivare accanto al monte premi già di 29 mila euro, che portiamo a 35 mila euro con premi speciali che danno un aiuto a giovani che si sono distinti, ma che non sono sempre, certi sì, perché sono premi legati anche a esecuzioni che si fanno in finale, ma talvolta la giuria cerca di premiare e individuare degli ottimi elementi che si sono distinti per capacità, per disposizione verso lo studio del violino già nella prima prova o seconda, che magari non hanno proseguito la competizione, ma che meritano un sostegno. Quindi è un concorso che dà addito di partecipare e di sperare in concorso da un primo premio e 12 mila euro che scendono progressivamente fino a 1800-1600. Però la fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia ci dà un importante premio fino al trano, quest'anno è cambiato il Presidente e speriamo che continui con 12 mila euro o anche più, o anche un aiuto per la concertistica, proprio per sostenere i giovani. C'è la concertistica oltre ai grandi nomi già affermati e che porterebbero un grande pubblico, ma hanno talvolta anche spese molto alte di ingaggio. Noi nella nostra stagione paghiamo tutti i contributi, il concertista è assunto per una giornata, si paga i contributi dell'Empax, paghiamo la SIA e sono quindi notevoli spese organizzative, oltre le sale da concerto e tutto, la produzione dei programmi. Certo, elementi di spicco che sono usciti, che sono proprio fatti velere il vostro premio Rodolfo Lipizzale e poi sono saliti alla ribalta delle cronache musicali internazionali? Vorrei dire che quasi tutti sono arrivati a posizioni che mai avremmo pensato. Esun Kang, primo premio 82, quando Viozzi, con una giuria prestigiosa, la laureata, è attualmente insegnante del Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi, il che ci fa capire come un insegnante superiore di un'Accademia di Santa Cecilia in Italia, anche più. Poi fanno grande concertismo, abbiamo molti dei nostri laureati che si sono poi affermati in altri concorsi, questa è un'altra cosa che ci ha fatto molto piacere. Ad esempio, mi viene in mente Antal Salai, figlio di uguale padre senior che fa la musica cigana, lui è nel classico, ha vinto il nostro primo premio nel 2004 e poi un anno o due dopo è andato alla regina Elisabetta del Belgio, a Bruxelles, che è uno dei più grandi e storici concorsi di violino al mondo e ha vinto anche lì il primo premio. Così abbiamo avuto altre soddisfazioni, abbiamo avuto anche dei regionali che si sono distinti, come Emanuele Baldini, che era un terzo premio ma ha fatto una grande carriera, prima al Verdi, adesso è a San Paolo del Brasil, concertisticamente sta facendo una grande attività da violino primo ma anche da solista. Poi abbiamo avuto altri casi, Angeleri di Padova, un terzo premio, che è andato al Paganini, due volte è venuto da noi col terzo premio, ha voluto fare altri concorsi, ha vinto la Vaklakumel Zagabri, ha vinto a Pretoria in Sudafrica il primo premio, poi è andato al Paganini qualche anno dopo di Genova, che attualmente è anche sospeso da un cinque anni, e ha vinto anche lì il primo premio. Quindi questo ci incoraggia nella scelta delle giurie a continuare la selezione dei giovani, che poi si affermano anche in altri prestigiosissimi concorsi, nati prima di noi, perché noi abbiamo 36 anni quest'anno di vita, mentre il Paganini è superato già i 50. Però anche lì sono entrati in crisi, la grande crisi è cominciata nel 2009 per tutti e non è finita ancora, e quindi se non ci sono le istituzioni pubbliche che ci aiutano è un grande problema. Stiamo chiedendo grandi sacrifici a tutti, dalle giurie ai concorrenti, l'ospitalità è tutto ridotto ai minimi termini, però chi viene a Gorizia per l'accoglienza che diamo calorosa, ritornerebbe di nuovo al concorso, volentieri proprio per il calore umano che sappiamo dare ai nostri ospiti, sia concorrenti che giurati. Poi c'è il convegno internazionale sul violino, un'altra manifestazione parallela che si svolge non tutti gli anni, perché non si trovano anche lì più i finanziamenti, ne abbiamo fatti 21 di concorsi, tra cui l'ultimo nel 2015, su un grande tema che è stato appunto Camillo Sivori, unico allievo di Paganini 1815-1884, che ha scritto tante cose, tra cui gli studi Capricci Opera 25 per violino solo, che sono al di là un po' di quelli di Paganini, ma di un'altra più voluta struttura musicale, che li abbiamo posti al convegno come discussione e con l'aiuto della Casa Ricordi, l'abbiamo stampato nel 2015, in gennaio, e l'abbiamo posto in programma già da tre anni, nella prima prova accanto a Mozart, Bach, Lippitzer, anche uno studio a scelta dei 12 Capricci di Camillo Sivori. Tutte le giurie che sono venute dal 2015 ad oggi, compreso dal convegno, è emerso che è un grande autore, che è peccato che è stato dimenticato, e noi nel 200esimo della nascita l'abbiamo rilanciato in campo mondiale. Tutte le giurie, tutti i violinisti non lo conoscevano e lo chiedono a noi, stiamo diffondendo l'opera che abbiamo stampato in più di 500 copie, lo spediamo a tutti per studiare. Un'altra caratteristica del nostro concorso è un'opera composta espressamente per il concorso. Quest'anno abbiamo racconti di Sonzo, che ha composto Roberto Molinnelli, che era l'altro anno primo presidente del premio 35esimo. un brano di 6 minuti e mezzo, non lungo, per violino e pianoforte, che tutti da questi giorni che lo stiamo spedendo a domicilio dovranno studiarlo per settembre, hanno tre mesi di tempo, ed eseguirlo davanti alla giuria nella prova semifinale, nella seconda prova, che comporta anche brani delle principali sonate dell'Ottocento, e un brano virtuosistico, un brano veramente non virtuosistico, un brano del Novecento, oppure, beh, un capriccio di Paganini, sono quattro i numeri della seconda prova, oppure possono i concorrenti scegliere una importante sonata del Novecento accanto a un brano virtuosistico del Ottocento, e sempre c'è questo brano d'obbligo per tutti, comunque, racconti di Sonzo, che sarà una squisitezza a sentire musicalmente, perché è molto bello e non facile, l'abbiamo editato con Iperprism Edizioni di Perugia, che da anni già ci dà anche un sostegno nel fatto che non costi troppo editare queste musiche, ma noi non ci limitiamo a darlo a tutti i concorrenti, alle giurie, ma ne stampiamo 350-400 copie, di cui 300 le diffondiamo gratuitamente in tutte le biblioteche, archivi e conservatori italiani e anche all'estero, nei principali centri di cultura internazionali, diffondendo quindi questa cultura contemporanea, che ormai ha più di 34 numeri, dal Viozzi, che ha composto una fantasia su spunto di Rodolfo Lipitzer, si è ispirato alla tecnica superiore del violino, che ha scritto... Spieghiamo un attimo la figura di Rodolfo Lipitzer, perché insomma, da casa magari tanti non hanno la minima idea, no? Lipitzer è stato un violinista, appunto, è nato nel 1895, un anno dopo la morte di Sivori, ed è vissuto fino al 1974. Io sono stato uno dei suoi ultimi allievi di Viola, mi sono diplomato in Viola, al conservatorio Tartini, lui però è stato direttore, ovviamente dopo aver finito gli studi a Vienna, è ritornato in Italia, si è ritrovato l'Italia, cioè è ritrovato a casa, non c'era più l'Austria, dopo la prima guerra mondiale, ha dovuto rifare il diploma di violino al conservatorio Verdi di Milano, con il massimo dei voti, come l'ha avuto all'Accademia Superiore di Vienna, dove ha studiato anche all'Università di Vienna, anche materie filosofiche, è stato allievo dei più grandi docenti di Vienna di allora, era una fucina di talenti, di culture, la capitale asburgica, insomma, e poi nel 1924 ha costituito l'Orchestra Sinfonica degli Amici della Musica di Gorizia, con una sessantina di elementi, un'Orchestra Sinfonica, che allora era più facile di oggi a farla, perché molti di più studiavano la musica, nel 1927 ha vinto il concorso di Abazia per dirigere una stagione concertistica ad Abazia, allora ancora Italia, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e dopo è subentrato alla nomina di direttore d'orchestra, direttore prima della scuola di musica di Gorizia, istituto comunale di musica, dal 30 al 61, per 31 anni, dove poi ha sempre affiancato la direzione dell'orchestra, la concertistica e la didattica, lui si è dedicato moltissimo alla didattica, infatti le sue principali opere, di cui ci parlava anche a noi allievi, se le faceva anche usare, la tecnica superiore del violino, che ha editato nel 1933-38, in più volumi. nel 1938 il ministro onorevole Giuseppe Bottai, gli ha dato l'alto riconoscimento di adottabilità di quest'opera in tutti i regi conservatori del Regno d'Italia, allora, e che molti hanno seguito questo consiglio, ma oggi è conosciuta anche grazie al concorso, abbiamo trovato naturalmente porte aperte, nel 1958 la Ricordi ha editato questo capolavoro didattico musicale, che è stato poi protetto e ristampato fino al 98-99, poi noi alla fine della protezione dei 40 anni l'abbiamo rieditato ancora, perché serviva al concorso, i violinisti non lo trovavano e così via, non solo, nel 2012 l'abbiamo rieditato con l'aggiunta della quarta lingua, perché l'Ipizzer allora, ovviamente ha fatto in tedesco e italiano, e francese, che era la lingua internazionale allora, oggi come oggi abbiamo visto la necessità di aggiungere l'inglese, e così la Ricordi l'ha ristampato ancora con la nostra collaborazione, anche con la quarta lingua inglese. Ricordiamo 11 settembre, no? Il concorso quest'anno inizierà il giorno 8, che è venerdì, e terminerà domenica 17, con il concerto dei laureati. Le prime tre giornate, venerdì, sabato e domenica, 8, 9, 10, suonano in prima prova con ingresso gratuito tutti i concorrenti ammessi. Poi c'è una giornata di studio, il lunedì, il martedì e il mercoledì c'è la seconda prova a metà settimana, semifinale, dove tutti si devono esibire con violino e pianoforte, violino solo, anche come Capricci di Paganini, oppure anche possono scegliere delle opere anche suonate per violino solo, per esempio come di Bartok o di Prokofiev, ma sono anche le suonate principali per piano e violino. La terza prova incomincia, si studia un'altra giornata, il giovedì, che sarebbe 14, il 15, 16, sono due giorni di finale, dove tutti e sei, massimo sei finalisti, perché si va in riduzione progressiva, la seconda prova ha un massimo di 15 semifinalisti, la finale massimo sei finalisti, dove possono scegliere dei concerti a scelta tra quelli in programma, c'è un concerto d'obbligo, per esempio, parziale come Beethoven o Brahms e un intero concerto del Novecento o viceversa, vogliono fare il terzo concerto di Bartok, terzo movimento, il secondo concerto di Bartok, terzo movimento, oppure un altro primo tempo di un concerto appunto del Novecento, affiancare devono sempre un concerto intero dell'Ottocento. Questa è una programmazione che è partita negli anni 99-2000 che ci ha dato grandi risultati, incrociando i secoli sin dalla prima prova. Sentendo Bach, Mozart, Lippitzer e anche Camillo Sivori che sta tra Lippitzer e Mozart, abbiamo un ventaglio di tre secoli di musica, dove la giuria può subito selezionare la capacità interpretativa e espressive dei violinisti. E la seconda prova ugualmente è incrociata, perché a parte i capricci di Paganini, ma ci sono le sonate, se è dell'Ottocento, devono fare il pezzo virtuoso del Novecento, accanto al brano composto nel 2017 da Roberto Molinelli. Quindi vedete che lo spettro, diciamo, compositivo, raccoglie sempre la fine del settecento, diciamo inizi del ottocento, fino all'attuale, contemporaneo e attuale. Ecco, dalla sua visuale, sua privilegiata, dalla sua conoscenza del mondo musicale internazionale, ma anche nostrano, qual è la situazione dei conservatori della nostra regione? I due conservatori statali, i Tartini, appunto, di Via Ghega, qui di Trieste, e il conservatorio Tomadini, di Piazza Primo Maggio, di Udine, sono le due eccellenze in regione che abbiamo ormai da anni e che diplomano i principali, i più bravi studiosi di strumenti più svariati. Una cosa è da dire, che è finito, ecco, ciò che i giovani credono che finendo il conservatorio con il diploma siano già in grado di partecipare a un concorso l'Ipizzer, è molto improbabile, perché, per esempio, il nostro primo premio italiano che si è diplomato, sì, in Veneto, ma poi ha continuato a studiare, per esempio, per tre anni alla scuola di Madrid Regina Sofia, no? Si sta diplomando quest'anno per il terzo anno in questa scuola e seguono corsi di perfezionamento con i più grandi docenti nelle masterclass internazionali dall'Asia, l'America, l'Europa, e quindi lì ci vuole ancora molti anni di studio. I nostri conservatori terminano, diciamo, dopo uno o due anni di preparatorio con dieci anni di studio. Adesso hanno creato due anni di perfezionamento. Quando la Russia aveva 17 anni, adesso ha portato a 19 anni lo studio con il perfezionamento. siamo sempre perdenti anche sulla quantità di anni di studio che ci consentono di studiare tante più opere. E quindi i nostri giovani devono capire che per partecipare a concorsi di livello mondiale come l'Ipizer devono continuare dopo il diploma a studiare e a perfezionarsi. Purtroppo poi sono anche le esigenze diciamo di sopravvivenza dove le famiglie dicono ma adesso hai un diploma trovati un lavoro. anche talenti pianistici violidistici di vari strumenti abbiamo visto che hanno interrotto la loro brava carriera finisse lì vanno trovano l'insegnamento trovano da fare dei concerti per guadagnare per sopravvivere e non continuano lo studio della musica. All'estero ad esempio abbiamo fondazioni più che in Italia bancarie private che sostengono nello studio questi giovani valenti dando strumenti addirittura come degli stradivari o dei più grandi gli utai per studiare in prestito gratuito archi di grandi architai dati assicurati in prestito ai più grandi e giovani violinisti che emergono per esempio lo scopriamo tutti gli anni vengono anche con uno stradivario in prestito a Gorizia a fare il concorso ciò che non avviene purtroppo in Italia o di raro abbiamo poche iniziative di questo tipo di sostegno dei giovani che studiano la musica dopo il diploma che continuano a studiare che con borse di studio anche all'estero hanno tanti sostegni anche economici per poter continuare a studiare siamo un po' in crisi da questo lato abbiamo tanta cultura paesaggistica abbiamo un territorio ricchissimo come il nostro ministro dice e lui pensa tanto ai musei ma dovrebbero dare di più anche alla parte culturale e musicale bene insomma allora appuntamento intanto il 21 giugno mercoledì alle 20 e 30 ai musei provinciali di Borgo Castello di Gorizia per questo concerto questa festa europea della musica che chiude un po' la stagione e poi a settembre ricordiamo ingresso libero per vedere le prime tre prove le prime tre giornate la seconda prova un biglietto modesto la terza un pochino cresce la finale ovviamente dove tutti vorrebbero sentire solo la finale dobbiamo mettere qualche soldino in più per pagarsi almeno la sala comunque il nostro consiglio è di la sala spieghiamo bene così il teatro Loise Bratus di Viale 20 settembre 85 che dalla piazza Vittoria scende verso Lisonzo diciamo e il nostro sito è www.lipitzer.it dove è informato chiunque e c'è anche il sito diciamo con con tutte le specifiche insomma abbiamo abbiamo anche Facebook che porta le notizie del concorso ma principalmente il premio Lipitzer e tutte le sue attività dell'associazione sono in più di 200 pagine molto documentate del sito www.lipitzer.it Bene grazie allora al professor Lorenzo Quali per essere stato con noi e averci dato questa finestra sulla musica sul premio Lipitzer e sul loro grande impegno per portare avanti i talenti della musica nostrana e non solo appuntamento del telegiornale alle 13 e 20 buona giornata